Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento del ciclo Aspettando Genova, l'onda Covid Capire per reagire, una serie di interviste dedicate al tema del nuovo coronavirus e condotte dalla redazione del Bolaiv in occasione della 18esima edizione del Festival della Scienza che si terrà nel capoluogo Ligure dal 22 ottobre al 1 novembre. Durante questi approfondimenti concepiti come un percorso di avvicinamento al festival ci occuperemo di vari aspetti legati all'infezione da SARS-CoV-2. Epidemiologia, immunità, trattamenti sono solo alcuni dei temi che di volta in volta tratteremo guidati dai nostri ospiti. Oggi in particolare parleremo di gestione e prevenzione di una pandemia e lo faremo con il professor Walter Ricciardi. Il professor Ricciardi è docente di igiene e medicina preventiva all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e autore di oltre 400 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Attualmente è presidente della World Federation of Public Health Associations e del Mission Board for Cancer della Commissione Europea. Il professor Ricciardi è stato inoltre presidente dell'Istituto Superiore di Sanità dal 2015 al 2018 e oggi rappresenta l'Italia in seno al Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre che essere stato nominato consigliere scientifico del Ministro della Salute per i rapporti con le istituzioni sanitarie internazionali per l'emergenza Covid che stiamo vivendo. Benvenuto professor Ricciardi e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito. Professore, in qualità di consigliere ministeriale, lei ha seguito da vicino il decorso della pandemia da Covid-19 in Italia. A gennaio arriva in Italia una coppia di turisti cinesi che risulterà poi positiva a SARS-CoV-2. Il 18 febbraio si presenta all'ospedale di Codogno quello che sarà il primo paziente italiano identificato. Il 21 febbraio si ha notizia del primo decesso e agli inizi di marzo si decide per il lockdown generale. Nella gestione di queste prime fasi, dunque, quali sono stati i momenti più critici? Il momento critico è stato quello che in qualche modo ci ha imposto di far capire a tutti la gravità e la potenziale gravità della situazione. Qualcosa che all'inizio, come forse voi ricorderete, era stato da alcuni sottovalutata, anche perché c'è stato un certo ritardo nella notifica dalle autorità cinesi, però io proprio ho partecipato il 3 febbraio al comitato esecutivo dell'OMS, in cui il direttore generale dell'OMS, tornando da Pechino, ci diceva appunto, ci allarmava, ci diceva bisogna prendere delle decisioni proporzionate, ancora non è chiara l'entità del fenomeno, ma è un fenomeno da non sottovalutare. Devo dire che non appena questo tipo di evidenza è arrivata all'attenzione del Ministro, il Ministro si è fatto parte attiva e anche egli ha cercato di spiegare al Presidente del Consiglio e al resto del Governo la importanza di attivarsi molto precocemente e di farlo anche a livello internazionale. Infatti due giorni dopo noi abbiamo invitato tutti i Ministri della Salute dei paesi vicini, più la Germania e la Croazia, per spiegargli quello che stavamo facendo e per spiegargli quello che in qualche modo noi avremmo fatto. E' detto che se si fosse aggravata la situazione avremmo preso delle misure ancora più energiche. Devo dire che all'inizio c'è stata molta incredulità anche a livello internazionale, in qualche modo c'è stato una sorta di scetticismo, pensavano che drammatizzassimo troppo la situazione e invece soltanto la settimana successiva la Presidenza Croata ha convocato tutti i Ministri della Salute perché si è resa conto che non era un problema italiano ma era un problema mondiale. Quindi direi che la difficoltà è stata proprio quella di far capire la gravità e la necessità di prendere delle decisioni importanti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità da tempo ventilava l'arrivo di una possibile pandemia e per questo nel 2011 è creato il pandemic l'influenza preparedness, secondo cui le misure di risposta possono essere rafforzate con attività di preparazione avanzata. In che cosa consistono tali attività di preparazione e come si è mossa Italia da questo punto di vista? Ma diciamo che se uno va a guardare quello che è successo nel passato trova numerosi segnali diciamo di arrivo di una pandemia. Ovviamente da addetti ai lavori, da epidemiologi, da studiosi che anche come me avevano vissuto la SARS e la MERS rispettivamente nel 2002 e nel 2005, poi avevano vissuto l'influenza pandemica, avevano vissuto situazioni di allarme che poi fortunatamente sono rientrate e per cui noi avevamo dato questo allarme. Poi l'allarme più eclatante è stato dato da Bill Gates che nella sua fondazione, collaborando con Chris Murray e con l'Istituto Belmetrics si era reso conto e devo dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva recepito formalmente questo appunto nel 2018 ma non era stata ascoltata. Diciamo che tutti i paesi sono stati presi di sprovvista. Questi allarmi, anche messi per riscritti dall'OMS, non sono stati considerati. E anche all'inizio, se le ricorda, c'è stato qualche parola importante da parte del direttore generale quando fece il paragone con il terrorismo e che il Covid era più pericoloso del terrorismo. Noi l'abbiamo interpretato in maniera così un po' fuorviante all'occidentale, ma lui si riferiva ad altri paesi, soprattutto quegli africani, asiatici, che il terrorismo lo conoscono bene, ahimè, e che non avevano preso fino a quel momento nessuna misura. Quindi ancora una volta, nonostante le avvisaglie, c'è stato un po' di ritardo. Quanto ha inciso, professore, il rapporto Stato-Regioni? In che modo l'autonomia regionale ha influito sulla gestione dell'infezione nel nostro paese? Frequentemente, ad esempio, si fa il confronto tra Veneto e Lombardia. Sì, diciamo che la pandemia, tutte le epidemie, ma a maggior ragione la pandemia, necessiterebbero di un coordinamento mondiale, perché l'epidemia si diffonde su tutta la Terra contemporaneamente. E quindi questo coordinamento, a maggior ragione, ci dovrebbe essere all'interno dei singoli paesi. Quindi, se speriamo e auspichiamo che ci sia un coordinamento internazionale, a maggior ragione nel singolo paese. Questo in Italia non c'è perché il nostro ordinamento, la nostra Costituzione prevede che ci sia una copartecipazione alla gestione della sanità, in cui il Ministero della Salute svolga soltanto, tra virgolette, i ruoli di programmazione, di controllo, di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e di finanziamento. Mentre invece tutti gli altri compiti sono delle regioni, quindi anche quelli operativi, esecutivi, organizzativi e gestionali. Dà la possibilità soltanto proprio in caso di epidemie di avocare a sé e quindi al Governo centrale questo potere. Però io onestamente l'avevo consigliato in questo senso, sia il Ministro che il Presidente del Consiglio, però non è stata fatta questa scelta. La scelta è stata quella di continuare a non modificare la Costituzione o di avocare quell'articolo della Costituzione preciso e di lavorare con una leale collaborazione che però è stata caratterizzata in certi momenti da tensione. Non c'è dubbio che alcune regioni sono andate per la loro strada nonostante le indicazioni centrali e questo è il prezzo che si paga alla mancanza di una catena unica di comando e di comunicazione. L'esempio più eclatante è stata la differenza tra Lombardia e Veneto, cioè due regioni vicine in cui i focolai epidemici sono più o meno partiti contemporaneamente. Una è riuscita attraverso una strategia soprattutto di controllo dell'epidemia a livello territoriale a circoscrivere i focolai di infezione, l'altra invece non è riuscita e poi è diventata un'epidemia nosocomiale perché di fatto gli ospedali sono stati invasi e hanno fatto. Questo è l'esempio più eclatante ma ne potrei fare tanti e questo è un prezzo che paghiamo ma è un prezzo che i cittadini hanno liberamente scelto, la costituzione e le leggi sono queste e queste sono le conseguenze. Mi collego proprio a queste sue ultime considerazioni. Alcuni sostengono che i sistemi sanitari occidentali siano stati costruiti intorno al concetto di assistenza centrata sul paziente ma un'epidemia richiede invece un cambiamento di prospettiva verso un concetto di assistenza centrata sulla comunità. Si sottolinea dunque l'importanza appunto della medicina territoriale. Cosa ne pensa? Ma io penso che bisognerebbe ragionare in termini un po' diversi, cioè che ogni servizio sanitario indipendentemente se sia un servizio sanitario nazionale come il nostro, cioè pubblico finanziato attraverso le tasse, gratuito al momento dell'uso con la maggior parte degli erogatori pubblici oppure un modello assicurativo sociale, cioè basato su erogatori privati con un ruolo limitato da parte dello Stato, indipendentemente dal modello questi sistemi devono essere caratterizzati da tre punti che è ben sviluppato in entrambi, certamente più in quello assicurativo sociale perché i provider trovano più redditizio ovviamente la prestazione ospedaliera, ma in entrambi poi ci deve essere un meccanismo di assistenza primaria e quindi in larga parte nel nostro sistema basato sui medici di medicina generale e poi ci vuole la medicina territoriale. L'epidemia ci ha dimostrato che se è forte soltanto uno, ma gli altri due sono deboli, l'epidemia dilaga e questo avviene in tempi appunto di focolai epidemici. In tempi di pace invece dilagano le malattie croniche, cioè non si riesce a garantire una continuità gestionale. Quindi indipendentemente dal modello e la modalità con cui viene gestito ospedale, assistenza sanitaria primaria, medicina territoriale compresa la prevenzione devono avere la stessa importanza. Se qualcosa non funziona perché sono sculibrati, si paga un prezzo alto. Uno degli argomenti più dibattuti nei mesi scorsi è stato il ruolo degli asintomatici nella trasmissione del virus. Ritiene che questa polarizzazione abbia in qualche modo rallentato l'adozione delle misure utili a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2? Penso per esempio all'impiego di mascherine, tamponi e a strumenti di questo genere. Sì, sicuramente, perché di fatto quello che è successo è che noi questo virus non lo conoscevamo. Abbiamo cominciato a studiarlo a gennaio e i cugini avevano un comportamento differente, cioè i cugini della SARS e della MERS si diffondevano soltanto da soggetti sintomatici. Non sono molte le malattie che vedono la diffusione da soggetti asintomatici. E quindi noi siamo stati in una prima fase indotti a pensare che il comportamento di questo coronavirus fosse simile. Invece poi abbiamo pian piano capito che gli asintomatici giocano un ruolo. Non è il ruolo decisivo, perché la stragrande maggioranza dei contagi avviene da soggetti presintomatici, paucisintomatici e sintomatici. Però gioca un ruolo in alcuni soggetti che appunto rimangono asintomatici e in alcuni soggetti che sono guariti dai sintomi e rimangono ancora infettivi e contagiosi. Quindi abbiamo messo un po' di tempo per capire questo e conseguentemente abbiamo messo un po' di tempo per capire, per esempio, l'uso delle mascherine. Cioè le mascherine, chiaramente quelle comunitarie, quelle chirurgiche, lo si ribadisce, non servono a proteggere le persone che le portano, ma servono a evitare che le goccioline di saliva fuoriescono. E ci sono ancora oggi, diciamo, le evidenze scientifiche sono sempre più a favore dell'uso di queste mascherine, ma stanno andando a compimento oggi per far capire che queste evidenze scientifiche si sono dovute costruire nel corso del tempo e quindi all'inizio non addette ai lavori hanno potuto pensare che venivano dati messaggi contraddittori. No, venivano dati messaggi man mano che si acquisiva la certezza delle evidenze scientifiche. In questi giorni si discute anche di un piano per aumentare il numero di tamponi da 80-90 mila al giorno a 300 mila al giorno. Ritiene che questa possa essere una strategia utile per prevenire una nuova ondata di contagi anche in vista della riapertura delle scuole, della ripresa delle attività produttive? Sì, l'aumento dei testing, diciamo la strategia delle 3T, cioè dell'aumento del test, del tracciamento e del trattamento, diciamo, dei soggetti positivi è quella che indubbiamente funziona. Ora non bisogna neanche esagerare con un allargamento indiscriminato e non basato sull'evidenza scientifica perché alla fine poi questo provoca degli sprechi e non è che abbiamo la possibilità di tamponare tutti continuamente, per cui c'è la necessità di fare delle scelte. Però non c'è dubbio che l'allargamento del numero di colori che devono essere tamponati è sicuramente una parte importante del lavoro futuro. Oltre ai tamponi nasofaringi esistono anche i test rapidi, tra cui ci siamo molto soffermati anche sui test salivari, che danno quindi l'esito in pochissimo tempo. Si è iniziato a usarli negli aeroporti e si sta valutando l'uso anche nella scuola. Ritiene che possano essere strumenti utili e affidabili e che possano in caso costituire un'alternativa ai tamponi? Sicuramente man mano che migliorano in termini di sensibilità e di specificità, e stanno migliorando sicuramente, ce ne sono dei test che hanno dei buoni livelli, sono sicuramente per questo utili. Non sono affidabili al 100% come il test molecolare, che rimane l'unico presidio diagnostico per accertare la positività dell'infezione. Però hanno una loro utilità e lo stiamo vedendo proprio nell'utilizzazione, per esempio in ospedale, nei pronto soccorso o negli aeroporti. Una utilità, diciamo, di screening. Sicuramente con la sensibilità e la specificità che hanno, per esempio, bloccano, identificano i super spreader, cioè quelli che hanno una carica virale molto alta e che si è visto che sono quelli che sono molto pericolosi per la diffusione dell'infezione. Quindi io credo che siano, diciamo, non un'alternativa e arriviamo ad un'importante integrazione in termini di strategia di controllo. Per le attività di contact tracing l'Italia si è affidata anche all'app Immuni, ma per ora poco più di 5 milioni di italiani ne ha effettuato il download. Ritiene che nonostante questa partenza lenta, Immuni costituisca uno strumento utile e da potenziare? Assolutamente sì. Proprio la settimana scorsa è uscito un bellissimo lavoro che ha evidenziato come il tracciamento elettronico sia utile qualsiasi sia a livello di copertura. È chiaro che tanto più è elevato questo livello di copertura, quindi tanto più persone la scaricano, tanto più è efficace il sistema di supporto al tracciamento. Perché va ricordato, noi oggi il tracciamento lo facciamo in larga parte con i dipartimenti di prevenzione, quindi con i medici di igiene e di sanità pubblica in maniera manuale. Se invece abbiamo questo strumento diffuso lo possiamo fare in maniera più rapida e più efficace. Per cui è veramente importante che un numero sempre superiore di persone e sarà particolarmente importante nella stagione autunnale, quando avremo tanti studenti e scolari che tornano a scuola, tante persone in circolazione. Avere uno strumento del genere ci aiuterebbe moltissimo. In questi giorni inizia la scuola. In proposito, lei ha dichiarato che servono protocolli pericolosi come in Danimarca e in Cina. A cosa si riferiva in particolare e quali sono a suo avviso le misure da cui non si deve prescindere? Ma questi sono due paesi che hanno riaperto le scuole in sicurezza, tant'è vero che hanno continuato a tenerli aperti o a riaprirle senza grandi problemi. Viceversa paesi come la Francia e Israele li hanno aperti con superficialità, senza stare attenti a che cosa? All'arrivo a scuola, cioè il modo con cui gli studenti e gli scolari arrivano a scuola, si assemblano davanti alla scuola, entrano nella scuola, frequentano la scuola. Ecco, questi sono tanti momenti pericolosi perché abbassando la distanza di sicurezza senza mascherina provocano la possibilità di un aumento del rischio. E allora bisogna fare come la Danimarca che ha presidiato tutti questi momenti in maniera molto rigorosa, che è un paese democratico la Danimarca, è un paese progredito. La Cina è ancora più, come posso dire, forte sotto questo punto di vista, certo non è un paese democratico, per cui impone di fatto tutta una serie di misure che in certi casi, per esempio la mascherina è anche ai bambini estremamente piccoli, cosa che di fatto noi in qualche modo vogliamo evitare per ragioni psicologiche e diciamo di comportamento che in qualche modo deve essere quanto più naturale. Però sicuramente presidiare tutti i momenti con la distanza di sicurezza, le mascherine e l'igiene delle mani e degli ambienti sono i presidi fondamentali per che le scuole possano poi rimanere aperte, perché riaprirle è facile, ma quello che è difficile è mantenerle aperte. Le scuole dal suo punto di vista corrono il rischio di diventare eventuali focolai? Potrebbero se non si rispettano queste misure, però se si rispettano queste misure il vantaggio di avere tante persone a scuola è molto superiore rispetto ai rischi. Però ripeto, se in qualche modo facciamo rispettare questi protocolli, anche la scuola, anche questi rischi sono molto limitati. In questi mesi, professore, molti scienziati hanno partecipato al dibattito pubblico su Covid-19, da loro anche composizioni divergenti che possono aver disorientato i cittadini. Una comunicazione di questo tipo, non univoca quindi, incide, ha inciso in qualche modo sulla gestione della pandemia? Sì, ha inciso perché ha generato confusione nei cittadini e diciamo il cittadino, tra virgolette, normale, cioè non scientificamente educato, vuole naturalmente tornare quanto prima alla normalità. Non capisce che il virus continua a circolare, non capisce che il virus è lo stesso. Se invece persone apparentemente autorevoli dicono che il virus è morto, che non c'è più il rischio, che bisogna tornare quanto prima alla normalità, anche se magari esprimono delle opinioni legittime da un certo punto di vista, però danno dei messaggi sbagliati. Quindi non c'è dubbio che questo contribuisce a generare confusione, a generare una polarizzazione del dibattito tra chi è favorevole alle mascherine, chi è contrario, chi è favorevole ai tamponi. Mentre invece ci vorrebbe una comunicazione molto più pacata e ci vorrebbe soprattutto che le persone e gli scienziati parlassero soltanto di quello che veramente sanno. Cioè se io a un certo punto, che sono un medico di sanità pubblica, sono un epidemiologo, cominciassi a dire qual è la tecnica migliore per fare il bypass aortocoronalico, non verrei creduto, diciamo, perché sostanzialmente io in sala operatoria a fare un bypass aortocoronalico non ci sono mai andato e se mettessi le mani sul paziente verrei arrestato per incompetenza, per dolo, per colpa grave. Non si capisce perché esimi clinici che magari sono bravi nel loro lavoro parlino di epidemia e parlino di sanità pubblica. Il problema è che noi lo capiamo, ma i cittadini non lo capiscono e quindi sono confusi perché quello lo equiparano a uno scienziato competente mentre invece competente nel settore specifico non è. Ritiene, professore, che a questo punto l'Italia possieda gli strumenti necessari per contenere eventuali futuri focolai in vista anche dei mesi autunnali? Sì, diciamo gli strumenti potenzialmente ci sono tutti, però come dicevamo prima sono estremamente differenziati di regione in regione. Ci sono delle regioni che praticamente, non dirò quali perché altrimenti genero, come posso dire, polemiche, però ci sono delle regioni che praticamente sono già pronte a gestire l'afforzamento dei pronto soccorso, i percorsi differenziati, hanno rafforzato i sistemi di tracciamento. Ci sono regioni che non hanno fatto quasi nulla su questo aspetto, per cui è chiaro che tu nel momento in cui avrai una circolazione del virus più o meno sparsa su tutto il territorio nazionale ci saranno delle regioni pronte, che risponderanno meglio e ci saranno delle regioni che nonostante tutto non verranno prese risprovvista perché queste cose le abbiamo dette però non saranno capaci di reagire. Questo è un po' il problema del nostro paese, cioè l'estrema eterogeneità, l'estrema differenza, ma come dicevamo prima è un problema insormontabile con l'attuale Costituzione. Professor Ricciardi, io la ringrazio per questo ampio approfondimento, per la collaborazione e grazie a tutti voi per averci seguito. Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie.